A, A, E, D, O, U, passo ripasso, A, E, D, O, U, è il programma di assagliere. Quindi, ma quale programma? Tanto poi la gente lo guarda ma non ne capisce. Quindi il discorso è, stavamo parlando della televisione, la televisione è come questo limone, la televisione è sintesi. Se io vi faccio un esperimento adesso, questo è un prodotto Amway, come potete vedere, Amway lo dice la parola stessa, Amway, Amola via, no, non è Frank Sinatra che si incallisce di, come si chiama quello che canta quello giovane Frank Sinatra? Già passo voi. Quindi, Frank Sinatra ha un clone che si chiama Michael Bublé, Bublé da piccolino, per noi erano 5 gomme. Quindi, quando dicevo, oh, Bublé Gumo, oh, non toccava, 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 non toccava. Zapping. Come ci fai qua? Vieni a casa mia con la telecamera. Cosa? Zapping? Ma cos'è questo zapping? Ma come ti permetti? Ti spacco la telecamera, capito? Ma come ti permetti a mandare in onda le immagini? Cioè, vieni a casa mia qua con la telecamera, zapping. Io ho fatto una zappa e ti raccuda, cazzo. Cosa? Cosa? Zaglio? Ma quando mai? Ma quando mai? Ma la prima cosa che viene fatto? Cioè, boh, no, fai quello che vuoi, vieni anche a casa mia, vieni. Ma ti rendi conto di ciò che stai facendo? Io devo ancora rimanere in onda. Io devo ancora rimanere in onda. Mio padre ha fatto zapping tutta la vita, che montano del verrovia, del zapping, del zapping, del zapping tuo. Quindi, un giorno, un certo, eh? Un giorno, prende con la zappa per lavorare la terra, non si accorge che c'è dietro il fratello e non bocchi sul frate, sul zapping. Quindi, esce, nasce Giovannino e muore Caino. Guarda come finisce la nostra vita. Smettila di bere col bicchiere dentro, che poi fa gas e a panna non si vede più niente dal bicchiere. Quindi, Mio, questa è la capita caro, si gratta e non vince niente. Quindi, Mio, la risata è contagiosa perché da piccolino io, a mia madre, curioso come tutti voi che non siete qua, gli dicevo, mamma, perché l'albero di Natale si accende come io vado a prendere la luce, si spegne e si accende l'altra? Eh, mamma, l'albero di me, è una macchinetta che te la mettono dietro, nel fianco. No, quella te la mettono dopo nel fianco, quando ti fanno l'operazione. Vabbè, lui adesso parla di cose serie. Ma un giorno, io dicevo, ci sono persone, per esempio, che non sono più con noi. Tu ti sempre zappi e devo vattarlo? Zapping. Oh, apri il posto di zapping, ma su un microfono. Siamo su zapping. Su microfono, a sesola. No, non so. Signora, mi scusi per prima, stavamo registrati. Allora, il discorso. Vabbè, ma dimmi tu che uno non può innaffiare, tranquillo. E vabbè che fai le interviste, vabbè che... Ma a meno che queste scene non farle vedere. Sono amante di fiori, amante delle piante. Cosa? Zapping. E cos'hai il tuo zapping? Ah, fuori onda. Zapping. Ma andate a zappare, andate. Dovete andare a zappare. Io faccio questo con i fiori, poi andate a zapping, zapping, zappare. Hai capito? A cosa ne hai? Perché ti denuncio forte io a te, per la privaci. Per la privaci, per la privaci. Ti denuncio forte, ho che zapping. Solo che lo zapping. E allora? A-E-I-O-U Passo, ripasso! A-E-I-O-U E' la mia assaglia! A-E-I-O-U